Grazie Presidente, vorrei innanzitutto iniziare il mio discorso sottolineando per me un fatto poco democratico, nel senso che volevano intervenire alcune associazioni per raccontare la loro, purtroppo il Partito Democratico non ha accettato una proposta di grande trasparenza, di grande confronto e questo veramente mi rammarica alquanto. Iniziamo da lontano perché se dobbiamo parlare di Muratella, dobbiamo parlare del passato, non possiamo parlare soltanto del presente o del futuro, ma dobbiamo capire perché oggi siamo qui a parlare di questo tema. Io vorrei prendere spunto dalla delibera a firma del Dottor Cantone da parte dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione, che ha stilato una relazione puntuale della gestione passata del canile della Muratella. I Comuni, qualora non gestiscano direttamente il servizio di canile, non possono affidare il servizio in forma diretta, dovendo offrire la possibilità di partecipare a tutti gli operatori economici, attraverso un bando di gara. Da tali documenti si evince che l'AVCPP, cioè l'associazione che ha gestito in passato il canile e che è stata rappresentata in passato da una persona che qui è intervenuta, ha gestito i canili di proprietà di Roma Capitale in base a convenzioni assegnate in assenza di qualsivoglia procedura comparativa tra operatori economici, più volte prorogate nel corso del tempo. Per circa otto anni il Comune ha posto in essere una serie di proroghe, rinnovi dell'affidamento all'AVCPP, stipulando con la stessa altre convenzioni che sostanzialmente riproducono il contenuto della convenzione originaria, con affidamenti diretti in assenza di confronto competitivo con altre associazioni. Con nota del Dipartimento tutela ambientale indirizzata alla Ragioneria Generale di Roma Capitale, nella quale si dichiara che le attuali convenzioni con gli organismi che gestiscono i canili comunali, il Dipartimento cita che non sono altro che il frutto di continue prosecuzioni di affidamenti iniziati dall'anno 2001 e che dall'epoca tali affidamenti sono stati effettuati senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica. Il Dipartimento ha dichiarato inoltre che prima del 2013 non è mai stata indetta alcuna procedura comparativa. Dalle evidenze in atti risulta quindi il sistematico, improprio ricorso al sistema dell'affidamento diretto e o della proroga in favore dell'AVCPP. ha gestito i canili di Roma Capitale da quasi 15 anni. Ottobre 2001, aprile 2016. Come vede, Presidente, qui ci sono anche delle foto della vecchia gestione e anche delle attività della nuova gestione. Riprendo in violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e proporzionalità. Nell'ultimo biennio sono state effettuate numero due procedure aperte al confronto concorrenziale e del 18 aprile 2016 è stato pubblicato il bando di gara a procedure aperta, con un bando europeo. vedete, ci fu una gara ponte per affidare la gestione del canile della muratella, però ci furono dei tafferugli. Intervenirono la questura, la polizia locale e qualcuno non permise di fare entrare il vincitore del bando all'interno della struttura. A quel punto la struttura fu occupata abusivamente, gestita abusivamente da ex dipendenti che non facevano entrare la polizia locale e o l'amministrazione. Roma Capitale ha corrisposto ai gestori dei canili comunali un importo forfettario che non si basa su un costo giornaliero per cani ospitato. Come espressamente dichiarato dallo stesso Dipartimento, il Ministero della Salute stabilisce un importo che oscilla tra i 3,50 euro e i 4,50 euro a cane, cosa che questa amministrazione ha voluto far aumentare fino alla somma di 7,50 euro proprio per garantire ancora di più il benessere dell'animale. Vi è quindi una discrepanza tra i suddetti importi e l'importo di 12,80 euro canodie che il Comune di Roma ha corrisposto all'AVCPP, che non ha mai vinto una gara pubblica e si trovava in regime di proroga. Ricordo, Presidente, che questo è frutto del lavoro del Dottor Cantone. Andiamo agli importi annuali delle spese. 2013 4,89 milioni, 2014 4,323 milioni, 2015 4 milioni. L'attuale amministrazione sta spendendo circa un terzo di quello che si spendeva nel passato con una gestione clientelare, non lo diciamo noi, ma lo dice l'ANA che la procura, perché vede che in quel tempo giravano molti soldi, però non si sapeva poi dove andassero a finire questi soldi. Ciò ha fatto scattare nel 2013, grazie al prefetto Tronca, che ha predisposto un bando europeo, grazie al subcommissario generale di Milato, che ha portato avanti il bando di gara. Aggiungo il primo bando europeo di questa amministrazione. Cosa che questa amministrazione ha voluto portare avanti, terminando da poco un bando triennale europeo, offrendo una gestione, la quale poi è stata vinta dall'attuale gestore. Tutto nella totale trasparenza. L'ANAC delibera l'affidamento della gestione dei canili rifugio e delle osi feline di proprietà di Roma Capitale nel periodo di riferimento non è stato conforme ai principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità sanciti dall'articolo 27 del Decreto Legislativo 163 del 2006 e dal principio generale di rotazione tra gli operatori economici. E' i principi di cui all'articolo 2,1 del Decreto Legislativo 163 del 2006, a mente del quale l'esecuzione dei servizi pubblici deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'attività amministrativa, al principio di economicità della gestione delle risorse economiche pubbliche, perché vi ricordo che venivano gestiti con fondi dei cittadini. Si rileva la carenza di un'adeguata rapprogrammazione nell'attività di affidamento dei servizi del canile. Tutto questo fu scritto con una relazione dal Dottor Cantone il 13 luglio del 2016. Per proseguire, Presidente, noi abbiamo anche dei articoli di giornale che vado a citare. 2016, Canivi di Roma, i conti dell'ANAC, 13 euro al giorno a cane, che poi, come abbiamo detto, come ha riferito l'ANAC, il conto era questo, 12 milioni in tre anni, onorevole Meloni, Presidente Fratelli d'Italia, indecente speculare sui cani. Il tempo, 8 dicembre 2014, affari d'oro anche con i cani, così la coppa zannava l'appalto. Tutto questo, Presidente, si rifà a Mafia Capitale, che nel Dipartimento Ambiente, tra il servizio Giardini e il cani di Muratella, possiamo dire che ha mangiato per tanti anni. Canili, quest'articolo del 12 aprile 2016. Canili arriva il Bando europeo del Campidoglio, l'ANAC, a Roma per 15 anni servizi senza gare. Un istruttore dell'autorità anticorruzione denuncia. Dal 2001, servizio prorogato con ricorsi in proprio all'affidamento diretto in violazione della concorrenza. Presidente, dopo il Bando europeo, la vecchia associazione AVCPP ha fatto ricorso al Tar, associazione volontari i canini di Porta Portese contro Roma Capitale nei confronti di rifugio agro-arzzano, per l'annullamento della procedura aperta per l'affidamento. Chiedo al pubblico di fare silenzio, cortesemente. Presidente, parla di oggi. Il Tribunale amministrativo lo respinge, condanna l'associazione ricorrente alla rifusione in favore delle resistenti costituite dalle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000 euro. Cioè, in sostanza, AVCPP perde il ricorso al Tar. E questo ci fa comprendere che questa amministrazione è sulla strada giusta, Presidente. Finalmente, questa amministrazione ha avuto il coraggio di spezzare un monopolio che andava avanti da 15 anni e, Presidente, nessuno aveva il coraggio di interferire in questo monopolio. Nessuno. C'era un sistema clientelare, detto dall'ANAC e dalla Procura, detto anche dalla Guardia di Finanza. Ma che questa amministrazione ci ha messo la faccia. io ho subito vessazioni in quei giorni quando il canile fu sgomberato. Fui accompagnato dalla Questura, Presidente, per liberare un canile e darlo ad una gestione tramite affidamento di cani pubblica. E dal pubblico di fare silenzio. Vi è stata data la possibilità di parlare. Adesso ascoltate. Grazie. Termini, consigliere Diago, cortesemente. Presidente, i cani muoiono. Le dico mi dispiace veramente. Ma a parte il cornetto vegano, che oggi scopro che un consigliere non può nemmeno mangiare un cornetto vegano, e scopro che un consigliere, quando viene invitato da un'associazione animalista, animalisti italiani, ha il dovere di andare per ascoltare quali sono le stanze dell'associazione. Ma non per prendere voti, Presidente. Non per prendere voti. Perché lì c'erano anche altri partiti. E lo stesso la stessa associazione si è associata con Berlusconi, con il movimento animalista. Ma va bene così. Per noi non è un problema. Però queste parole della dottoressa Vignani sono inaccettabili. I cani morivano anche prima. E lo dico con una nota del 2012. Attenzione. La nota riveste caratteri di massima urgenza. Oggetto blocco di entrate presso il canile comunale della Muratella. La presente per comunicare che da alcune note pervenute a questo ufficio dall'associazione AVCPP, in merito alle condizioni di salute di molti cani ospitati presso il canile comunale di Muratella, si presentano allarmanti. Infatti sono stati individuati molti soggetti con prognosi infettiva di forma virale. Cimurro, che oggi, grazie a Dio, questa patologia e questa problematica non c'è, e di gastrointerite. Tali soggetti segnalati dai medici veterinari dell'Asda e Roma D sono stati trasferiti presso cliniche private convenzionate con Roma Capitale, sempre con affidamenti diretti, sempre con soldi pubblici. Al fine di evitare ulteriori danni derivanti dai cani eventualmente infetti che potrebbero contagiare i nuovi arrivati, si chiede agli enti in indirizzo di limitare, per quanto possibile, gli ingressi al canile della Muratella. A partire dalla data odierna, le eventuali nuove richieste di ingresso in canile saranno esaminate dallo scrivente ufficio, che a seguito di esame dei singoli casi autorizzerà la collocazione degli animali presso i canili convenzionati con Roma Capitale, a firma del dottor Tancredi. E le dico che in quel momento, anno 2012, per i motivi della gastrointerite del Cimurro, morirono a gennaio un cane, a marzo 2, a maggio 1, a luglio 3, ad agosto 1, a settembre 3, a ottobre 9, a novembre 5. Il totale 25 cani per questa problematica. Sì, le faccio vedere l'ultima chicca, Presidente, per far vedere queste associazioni che hanno parlato qui. Non tutte, perché qualcuna era autorevole. Però, forse, io spero che venga martedì, quando si discuterà la delibera contro le Botticelle, voglio vedere i partiti che la voteranno a favore. Questo veramente lo vorrei tanto vedere. Queste, Presidente, sono delle foto, le faccio vedere, del canile di Vitinia, ex poverello, gestite dalla dottoressa Novi, qui presente. Canile abusivo, chiuso dall'amministrazione della Polizia Locale perché aveva un rischio idrogeologico. I cani vivevano in queste condizioni, Presidente. Se mi può guardare, per favore, questa è la condizione. Le faccio vedere anche questa. I cani dentro la pozza dell'acqua marcia. Ecco, questo è il benessere animale che oggi la dottoressa Novi, che oggi ha un altro nome di un'associazione, ma questo a me non interessa, come le altre associazioni, questo era il benessere animali per loro. Io voglio vedere nel passato dove erano. Dove erano nel passato. Dove erano. Io non l'ho vista e non l'ho sentita. Presidente, vuole coraggio e di questo ringrazio la Sindaca, gli uffici e questa amministrazione. Grazie a lei, consigliere.